video presentazione del corso 05 2020 didattica distanza ambienti approcci metodi e valutazione percorso formativo in convenzione tra istituto comprensivo osso e ami dell'associazione insegnanti maggio settembre 2020 lezioni e laboratori sincroni e sincroni se dopo aver visionato l'intero video ti rimarranno ancora alcuni aspetti da approfondire potrai farlo durante il primo incontro sincrono o tramite il forum assistenza tecnica in alternativa guarda la guida generale presente nella pagina illustrativa del corso vediamo ora i passaggi fondamentali e le caratteristiche del corso primo step iscriversi alla piattaforma se non sei ancora iscritto alla piattaforma www.anitel.cloud fad clicca su login è la prima volta che accedi qui crea un account accettare la policy e proseguire individua un username e una password segui le regole per creare la password compila tutti i dati obbligatori per l'attestato spunta il captcha se ti viene richiesto crea il nuovo account ti comparirà un avviso di invio email raggiungi l'email usata per l'iscrizione aprila clicca sull'attivazione sarai indirizzato al sito continua ora sei iscritto alla piattaforma fadanitel il passo successivo a iscriverti al corso ora vediamo come iscriversi al corso dall home page della piattaforma dopo esserti loggato rintraccia in corsi disponibili il corso 5 ti sarà chiesta una chiave d'ingresso che ti verrà comunicata dall istituto una volta digitata clicca su iscrivimi come è strutturato il corso una volta raggiunto puoi aprire la dashboard che attiverà un menu laterale sinistro per una navigazione diretta ai servizi principali pulsante per chiudere la dashboard il percorso formativo si sviluppa in una parte fissa info tool contenente i servizi e da quattro moduli tematici ogni modulo è organizzato in web lesson sincrone o asincrone con materiali di studio e in web lab sincroni per il tutoring e il counseling al termine del percorso è prevista una rilavorazione riflessiva sugli apprendimenti con verifica e valutazione i processi predisposti partono dalle attività di studio e ricerca individuale o a gruppi tematici il percorso è agevolato dai docenti e dagli esperti con funzione di tutoring e counseling il confronto sarà il fulcro delle precedenti azioni prima di passare ad un progetto realizzativo nel contesto degli apprendimenti individuali e di gruppo la condivisione degli elaborati realizzati arricchirà l'esperienza mirata a una ricaduta diretta nella prassi didattica quotidiana il processo di valutazione o autovalutazione avrà l'obiettivo di individuare eventuali approfondimenti da compiere tornando alla parte fissa info e tool posta sempre in alto in tutti i moduli contiene le informazioni il programma la tabella di valutazione dei crediti per l'attestato e i contatti puoi contattarci telefonicamente via email tramite whatsapp per i problemi tecnici usa il forum di assistenza tecnica che ora vedremo la parte fissa continua con informazione sul corso e guida generale la bacheca delle comunicazioni da dove vi saranno inviati gli avvisi più importanti no replay il forum di assistenza tecnica che potrai usare solo in caso di problemi tecnici riscontrati il monitoraggio iniziale che dovrai compilare mentre il monitoraggio finale si attiverà alla fine del corso il glossario raccolta facoltativa di termini come risorsa comune la training room di libero accesso per simulare con big blue button la didattica distanza e per gli incontri di gruppo il collegamento rapido alla diretta dell'incontro sincrono gli attestati anitel sono riconosciuti dal nur essendo un ente accreditato per la formazione sono provvisti di codici depositati e di qr code univoci idonei alla tracciabilità e alla verifica istantanea da parte delle segreterie scolastiche affinché diventino scaricabili occorre raggiungere per la sufficienza il 60 per cento del totale crediti a disposizione vedi tabella di valutazione terminata la pagina fissa info e tool a seguire troviamo i moduli quattro contenitori suddivisi per argomenti clicca sull'intestazione di ogni modulo per aprirlo ogni modulo riporta l'elenco dei contenuti è suddiviso in la lezione con tutti i materiali di studio video lezione tutorial animazioni sitografia risorse ed altro le attività con un forum di tutoring dove è possibile avere il supporto dal docente un forum di confronto e condivisione dei prodotti e delle risorse inoltre è presente la verifica degli apprendimenti per autovalutare i propri progressi per navigare al modulo successivo per come utilizzare il forum e completare la verifica leggi le apposite guide vediamo come sono valutate le diverse attività per il raggiungimento dei crediti il glossario posto in info tool è una raccolta ordinata di termini inerente alle tematiche del corso non viene valutato all'obiettivo di creare un'utile risorsa scaricabile prodotta dai corsisti lungo il tragitto la presenza agli incontri sincroni o la visualizzazione delle web lesson registrate viene tracciata dal sistema il forum tutoring e counseling è opzionale e destinato alle richieste di supporto il forum di confronto e condivisione è prescrittivo tracciato dal sistema ma non valutare la verifica del modulo è obbligatoria viene valutata con un massimo di 100 crediti totale crediti del corso 400 attestato al raggiungimento o al superamento di 240 crediti dei vari servizi di info e tool e delle attività dei moduli vediamo solo le principali per il resto consigliamo di consultare la guida generale contenuta nella pagina illustrativa del corso per partecipare al glossario campo di ricerca di voci all'interno del glossario ricerca per ordine alfabetico per inserire una nuova voce prima controlla se già non esista in questo caso potrai completare il tuo contributo su una voce inserita da un altro titolo della voce definizione alias o parola alternativa eventuale allegato dimensione massima dell'allegato salve e pubblica tramite il forum tutoring e counseling puoi chiedere aiuto e consigli sulle tematiche del modulo ai docenti ma potranno risponderti anche colleghi leggi l'avviso aggiungi nuova domanda scrivi il titolo della domanda area del messaggio editor in quest'area è possibile inserire testo link immagini registrazione da microfono url di video registrare un video e inserirlo alla fine invia al forum dalla rotellina in alto puoi scegliere di sottoscrivere tutti gli interventi del forum in questo modo riceverai le notifiche di tutti i post effettuati dai colleghi puoi visualizzare il forum in diverse modalità se necessario puoi modificare il tuo intervento nelle attività troviamo il forum confronto e condivisione come confronto fra colleghi sulle tematiche del modulo inoltre è possibile condividere risorse, esperienze e le proprie realizzazioni come utilizzarlo rispondi al primo messaggio successivamente, avanzata, per avere l'editor di testo con utili strumenti quali la formattazione, la lega file, ed altro editor di testo formattazione del testo colore inserire un collegamento a una parola inserisci immagine link collegamenti a video registrazione da microfono registrare un video e inserirlo per una facile individuazione del tuo intervento in mezzo ai tanti cambia titolo, inserendovi uno contestualizzato al tuo argomento più sotto troviamo, l'allega file clicca sulla freccia, e individua il file da allegare dimensione massima degli allegati 20 megabyte e non più di 4 file alla fine, invia al forum questa è la conferma d'invio dalla rotellina potrai scegliere di sottoscrivere il tuo intervento, in modo da ricevere le notifiche degli altri, relativi al tuo post il tuo intervento, con titolo modificato, apparirà in elenco con gli altri per postare il tuo contributo, rispondi all'insegnante puoi anche rispondere al contributo di un collega dalla rotellina in alto, puoi scegliere di sottoscrivere tutti gli interventi del forum in questo modo riceverai le notifiche di tutti i post effettuati dai colleghi puoi visualizzare il forum in diverse modalità vediamo ora come eseguire la verifica prevista al termine di ogni modulo dopo aver cliccato su verifica, entra, clicca su inizia leggi la consegna, rispondi alle domande alla fine termina tentativo torna al tentativo per ripetere, oppure, invia, e termina per la valutazione come già detto per tutti gli altri approfondimenti consultate la guida potrete contattarci in vari modi seguendo il link presenti in piattaforma grazie per averci seguito grazie grazie grazie